Io sono Giuseppe e ho freconto le attivazioni a Dirigio Scientifico di Stigliano. Io sono Vincenzo e io sono Gianmarco, ho freconto il quarto anno a Dirigio Scientifico di Stigliano. Siamo stati due settimane in Irlanda ospitati da una bellissima famiglia con una bravissima cosa, che oltre a noi ha ospitato anche altri due ragazzi stranieri che ci hanno permesso di migliorare a noi di più il nostro inglese. Per questa esperienza ringraziamo il Fondo Sociale Europeo, la Regione Basilicata, i docenti che ci hanno accompagnato e soprattutto il nostro Presidente che ci hanno permesso di partecipare a questo miniatur asus. Ciao, mi chiamo Stella e ho frequentato la classe quarta dell'assistituto tanto tecnico. Ciao, sono Caterina, ho frecognato la quarta servizi commerciali. Io e Stella siamo state esplicate in Irlanda da una famiglia molto accogliente e grazie a questa bellissima esperienza abbiamo potuto migliorare il nostro inglese. Io sono Francesco. Io sono Vito. Io ho frequentato il terzo mentre Vito ho frequentato il quarto scientifico. Abbiamo partecipato al Mini Erasmus in Irlanda, precisamente a Cork, e la nostra famiglia che ci ha ospitato è stata veramente ospitale e siamo stati veramente molto bene per ogni settimana. Ciao, io sono Enzo, io sono Luis. Io ho frequentato il quarto liceo scientifico e ho frequentato il quarto professionale. Dal 9 al 23 settembre siamo stati in Irlanda per il progetto del Mini Erasmus e siamo stati ospitati da una famiglia che ci ha trattato veramente molto bene. È stata veramente una bella esperienza. Ciao, io sono Martina e quest'anno ho frequentato il terzo anno del liceo scientifico. Io sono Miliana e ho frequentato il quarto anno. Io sono Giulia e ho frequentato il terzo anno. Siamo state ospitate a Cork da Erika e sua figlia Lera, che ha la nostra stessa età. È un piccolo bagnolino di nome Jesse. Sono state davvero gentilissime con noi e ci hanno fatto sentire come se fossimo a casa. Grazie all'aiuto delle nostre tutor Sky e Justin abbiamo migliorato il nostro inglese facendo dei corsi e delle attività laboratoriali. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.